Libri.tv Anacolo Cosentino è stata proprio diretta e interpretata da Max Mazzotta che è qui al mio fianco. Com'è nata questa commedia? Soprattutto il risultato che anche questa sera abbiamo visto nel pubblico e negli applausi che ci sono stati. Ti ringrazio. La commedia nasce più o meno vent'anni fa in realtà. L'ho scritta perché c'era l'esigenza da parte mia, insomma sicuramente perché l'ho scritta, scusate ma mi scurre il telefono. L'ho scritta per un'esigenza personale, cioè il fatto di raccontare al pubblico le vicende del teatro, le prove di uno spettacolo, che cosa succede agli attori. Certo, essendo una commedia è chiaro che molte cose sono esasperate, però c'è una punta di verità in tutti i quadri che compongono la commedia. Infatti ci sono vari quadri dove i personaggi, i protagonisti subiscono delle influenze, della crisi, dell'oblio, della chiarezza, dell'incomunicabilità, eccetera. Perché sì che, diciamo che nelle compagnie, quando si fanno le prove di uno spettacolo, si attraversano varie fasi, ecco. E io ho voluto descrivere queste fasi tramite queste prove di teatro, che poi alla fine sono delle pantomime in realtà, perché questo Carminuzzo, ecco, i nomi sono, gli ho dato una storia, e per cui è nata, insomma, piano piano la commedia, che poi è stata anche frutto di improvvisazioni, chiaramente create da noi quando abbiamo provato poi lo spettacolo, quindi alcune cose sono anche frutto della nostra inventiva, insomma. Tra l'altro gli altri attori che sono proprio qua, dal nostro fianco, sono Mimì, che sarebbe Paolo Mauro, e appunto, dicevamo prima, Cocò, che è Graziella Spadafora, alla mia destra. Io però voglio partire da Paolo Mauro, Mimì, perché è stato quello che ho visto essere un improvvisatore e ha praticamente fatto ridere molto con la sua mimica, oltre la tua, che proprio è assolutamente unica, c'è da dire. E anche quello è improvvisare, immagino, il tuo essere caleidoscopico, direi io. Ma, sono contento che è uscita fuori questa cosa. Comunque, le improvvisazioni che facciamo nello spettacolo sono, come diceva Max, sono frutto di improvvisazioni che abbiamo fatto nel corso delle prove, che abbiamo ormai fissato, è che, guarda, il teatro è prove aperte, ma come tutti gli spettacoli, cambiano ogni volta che noi facciamo, lo rappresentiamo. Devo dire che non è mai lo stesso. Alcune volte ci è venuto, oppure abbiamo inserito anche cose nuove, che sono venute spontaneamente, anche con l'energia che trasmette il pubblico. E sì, questo è frutto di lavoro e di improvvisazione. Tra l'altro, invece, dall'altra parte abbiamo Coco Graziella Spadafora, che è la parte femminile della compagnia, e che anche lei ha sottolineato degli aspetti della femminilità, ma anche degli estremismi, probabilmente, in maniera molto garbata. Soprattutto non voglio togliere, ovviamente, a chi verrà a vedere lo spettacolo teatrale, ma ci sono delle scenette molto divertenti, io ne voglio solo accennare come quello della lampada, della bajou, ma non dico altro. Sì, vabbè, il personaggio femminile di Coco è un personaggio, come hai detto tu, hai detto una parola molto garbato, quindi delicato, che poi alla fine si ritrova con Carminuzzo, questo regista pazzo, folle, però a lei piace, perché se no non si trova qui con questi due. Con Mimi, che c'è questo rapporto comunque di amicizia, probabilmente forse anche non si sa di amore, però legato sia al lavoro e sia anche alla passione, che lega Coco al teatro, e anche al modo di fare teatro di Carminuzzo, sicuramente. Tre personaggi hanno tutte e tre una passione per il teatro, questo si vede nelle loro follie, è chiaro che ce l'hanno. Ecco, non sono protagonisti, cioè non vogliono essere esibizionisti questi attori, sono attori che poi vanno a fare un teatro molto difficile, anche se risulta essere molto semplice, però poi invece, magari invece sono dei concetti difficili, perché Mimi infatti vuol fare Pirandello, Shakespeare, recitare i grandi classici, quando invece puoi racchiudere in 15 minuti un concetto, è molto più difficoltoso per un attore, diciamo, classico, entrare all'interno di un concetto teatrale, artistico. Diciamo che i protagonisti, come stavi dicendo tu, Ben e Max, volevano tentare alcuni di mettere in scena dei classici, però alla fine questo spettacolo è uno spettacolo invernacolo, che secondo me è anche una leva positiva per riscoprire il dialetto, ma anche per scoprire dei nostri luoghi comuni che fanno ridere e che soprattutto sottolineano quanto magari questa terra sia da valorizzare. Certo, assolutamente, l'idea è stata proprio questa, il fatto di scrivere in dialetto come così grandi autori del passato, che scrivevano in dialetto perché dovevano fare degli spettacoli pop, cioè popolari, però non significa popolare, non significa di solito, no, con l'avvento del concettuale, non dello sperimentatore, magari il popolare viene visto come un teatro di serie B, tra virgolette, ma non è così, poi alla fine il popolare ripaga sempre perché deve entrare il teatro nelle case, nella gente, le persone semplici, nelle persone che magari non è che stanno dentro alle prove del teatro, capire come sono i meccanismi, però se tu glielo dai in dialetto, molte cose arrivano prima, arrivano dirette, e quindi anche la signora che magari non è mai andata a teatro, vedendo questo spettacolo può capire alcuni meccanismi molto meglio rispetto magari a delle parolone o a un linguaggio che è magari più ostico. Dove possiamo trovare, diciamo, le prossime tappe di prove aperte, ma della compagnia teatrale di cui fate parte? Libero Teatro è una compagnia ormai ventennale, insomma, e quindi facciamo teatro da vent'anni all'Università della Calabria. Niente, i prossimi appuntamenti sono a Roma, sicuramente il 30, 31 e l'1 al Fringe, che è un grande festival che si fa ogni anno a Roma, e ci siamo noi, insomma, con questo spettacolo, il che sarà una sfida perché chiaramente è uno spettacolo appunto che porta il dialetto in un luogo diverso. Dopodiché avremo il 15 settembre invece, saremo con Gian Gurgolo, principe di Danimarca, che è una rivisitazione dell'amleto di Shakespeare in Commedia dell'Arte con il personaggio di Gian Gurgolo, che è la nostra maschera, ecco, di teatro calabrese, anche quello in dialetto calabrese, che è la traduzione dell'amleto in Commedia, e nel festival internazionale di Commedia dell'Arte a Roma, il 15, al Teatro San Paolo, che è un teatro bello, dove ci sono tante compagnie di Commedia dell'Arte, che chiaramente noi italiani siamo i padri della Commedia, ed è giusto che ci sia un festival, almeno, e con noi ci partecipiamo e questa è una cosa bella. Dopodiché abbiamo invece, sempre come Libero Teatro, a Tropea, che facciamo, dal 6 di settembre, fino al 24, una rassegna della nuova drammaturgia calabrese, il chiamato Teatro da Mare, che è una rassegna che abbiamo già fatto l'anno scorso, abbiamo avuto grossi riscontri, è stata molto importante, perché valorizzare appunto i testi, i nuovi testi, insomma, di autori calabresi, è una cosa molto importante per noi. Quindi noi abbiamo deciso quest'anno di rifarla, e la faremo sempre a Tropea, dal 6 al 24 di settembre. Quindi laboratori, altre cose che facciamo all'università, come Libero Teatro, che facciamo da anni, quindi siamo contenti di... Quindi penso che basti cercare su Facebook, o comunque sui social, i vostri nomi, che io ripeto ovviamente Max Mazzotta, che è appunto scrittore e appunto protagonista di questa commedia che è Prove Aperte, e ovviamente Graziella Spadafora e Paolo Mauro. Io ringrazio ancora davvero il tempo che ci avete dedicato. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie a tutti.